Visti, come promesso, eccoci, hopla, stavamo perdendo la borsetta sinistra, amore! Eccoci a Savignano sul Panaro, splendida località, abbiamo fatto il nostro gilettino con i monocicli per andare a recuperare un bancomat e adesso stiamo ritornando in quel del crossodromo come potete vedere le salite qua sono veramente, cioè, questo dovrebbe essere la visione, dobbiamo alzare alzando non vi sembra, ma vi dico che questa è una bella salitina da 15 gradi tranquilli cioè sembra la salita di un box e come potete vedere, per esempio, in queste situazioni noi siamo su Segway One, la Janji con il Segway Mini riesce a distanziarci questo perché? Perché la Janji ha due motori da 400 watt e chiaramente insieme sono più potenti del singolo motore del One che consente una velocità più superiore però in salita, avendo anche una ruota da 16 pollici, ovviamente ha delle difficoltà superiori invece il Mini proprio va su come una iena, vedete, ci sta distanziando la grande Janji eravamo scesi per fare il banco e per andare al supermercato, purtroppo non siamo a Milano e qua i supermercati, adesso il nostro One ha ripreso velocità, i supermercati non fanno l'orario continuato e dulces in fundus, ciao caro! qua i supermercati aprono alle 16, sono le 13.30 e quindi recuperiamo l'autodromo andiamo a prendere la nostra piccola schiena eccoci, siamo arrivati dalla parte alta di Savignano, bellissima cittadina praticamente dove siamo andati a mangiare, abbiamo fatto l'articolo della Osteria d'Amelia adesso ci vendiamo di fianco l'Osteria d'Amelia e andiamo all'Emporio della parte alta di Savignano con i nostri monocicli Janji come va? come va? come va la situazione buche, sconnessioni, baradà, sassetti, sassotti? ci sono dei punti dove c'è una tendenza veramente elevata a destra, signorina Janji a destra? penso di sì eccoci qua eccoci arrivati all'Emporio di Savignano Alta la bottega dal castello e andiamo dentro con l'asciura, che bella e andiamo alla bottega dal castello a fare la spesina ostia, anche qua porca la puzzola niente, nessuna spesina arriviamo dopo, mori allora andiamo ritorniamo giù per il crossodromo con discesa del 25% si sente di affrontare la discesa del 25%? non lo so, non lo so, vediamo ieri sera il ferramonte si ammazza a fare quella discesa lì andiamo, andiamo segnalo, riportiamo riandiamo al crossodromo oh guarda chi c'è sopra, c'è lo Stefano se mi serve qualcosa finché sono qua ve lo do mori, la signora ha detto che la gentilezza della gente emiliana adesso ragazzi, interrompiamo il video articolo e ci rangiamo nella spesuccia per lo yogurtino di domani mattina vai signora Janji, vai vai, faccia la spesa faccia la spesa siamo pronti un saluto, a dopo segue i mini e segue i one et voi la grazie a tutti